Vuoi farti la tua squadra dei sogni su FIFA 20 e non sai come fare? Bene, passa su footloot.com, inserisci il codice Joker e otterrai il 5% di crediti extra e il 10% sui loot dollars. Trovate il link in descrizione. Volevamo la carta blu, sinceramente. Brasiliano, difensore dell'Arsenal. Oh, 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 David Luiz. Oh, oh, candidato Todi, italiano. Chi è? Chiellini? Chiellini? No, Bonucci. Candidato Todi e Bonucci. Candidato Tony, Tony. Candidato Tony Dubbo, Bonucci. Penso fosse Chiellini, ma Chiellini non è candidato perché non l'ho visto, ragazzi, quali sono i candidati, però... Non lo so, ma ci porta fortuna. Luce blu. Oh, oh, candidato Todi. Inglese. Esterno. Sancho. 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 Due di fila. Due di fila. Madonna il Joker on the Muchacho. Due di fila, raga. Boom, baby. Ci sta portando fortunissima Tomic. Signori, sculo Joker, sta trovando tutti i candidati Todi. E anche me lo sta trovando Bonucci e Sancho. Però, se mo' mi da Portogallo o Argentina, io svengo. Carta blu. Magari ce la dai, la carta blu. Cash e Ronaldo, Messi, candidato di Todi. Quelli vogliamo. Messi e Ronaldo, perché quelli escono candidati. Neymar, Mbappé, Salah. Quelli dammi, no Sancho, Bonucci. Dai, carta blu. Oh, oh. Argentino a Portogallo. No. Coli. No. Mortacci, in altra canità, Todi. Oh, nana, madonna, raga. Sono tre, non ci credo. Non ci credo, raga. Tre è il terzo che mi da. Ma quanti ce ne sta dando? Ma quanti ce ne sta dando, raga? E dovete lasciare un like per il giocherone, ragazzi. Siamo a 660. Dobbiamo arrivare almeno a 500 like. Ma almeno a 500 mi piace, ragazzi. Dobbiamo arrivare. Quindi andiamoci a aprire questi pacchetti, allora. Vi voglio carichissimi. Della UEFA? Ma? Che culo. Vi dà l'84. Dai, raga. Ma che culo oggi che ho? C'è un tablo differente. Walkout. Brasiliano. CDC. Casemiro. Casemiro. Ragazzi, ma che cosa mi sta dicendo? Oggi. Con quale fortuna sto facendo questo pacco opening? Carta buona. Carta blu. Magari ci caschi. Magari ci caschi e darmi la carta blu. Del Manchester. Gundogan. Ci dà Gundogan. Dai. Carta blu. Carta blu. Carta blu. Carta blu. No, non è blu. Niente. Forse è un if. Portogallo if. Cdc. Ah, no, non è if. Oddio, pensavo fosse if. Ho flashato proprio. Si illumina. Carta blu. Non è blu e non è neanche walkout. Forse è un if. Portiere del Bayer Leverkusen. Non è if. Perché flash o if, ragazzi? Così a buffo. Dai, carta blu. Niente. Non è neanche walkout. Ma vai a cagare, vai. Spagnolo. Del Napoli. Oh, 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 oh. Tutti 83, ragazzi. Tutti 83, oh. Dai. E mo' si trova. Si illumina. Messi toti. Eh, Messi toti. È argentino, però non è Messi. Oh, però non ce l'ho vicino, eh. Ansaldi. Ansaldi. No. Vidal. Carta blu. Magari c'è che aschi. Magari c'è che aschi. Spagnolo. Cdc. Del Manchester. Rodri 85. Si illumina anche questo. Walkout. Attitidami Suarez. Oh, Suarez. Suarez 89. Suarez. Almeno non è Cavani, cavolo. Almeno non è Cavani. Oh, è blu. Walkout. Oh, vabbè. Prende la UEFA. Non è, non è un tolto di capitato. Oh. Oh. Donny Grosso 88. Yes. Yes. Eccolo. Dammi azzurro. Oh. È blu. Walkout. È blu. Walkout. È blu. Walkout. Spagnolo esterno destro. E' un altro. È sempre della UEFA. Colgo 85. Mi sta dando quelli blu ragazzi, ma non mi sta dando i giocatori della candida di Todi. Portacci vostra. Niente. Non è Walkout. Mi sa che è uniforma. Quindi spagnolo. Esterno sinistro if. Non ci dà niente di buono. Ci dà. Jockin. Non è Walkout. Mannaggia. È un altro if. Italiano. Centrocampista. Oh, 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 oh. Tutto gas. Batto occhio. E da che si illumina. Dacci questa carta azzurrina. Delle mortacci. C'è niente. Un altro if. Ci dà. Kinteregger. Ma che è? Un ultimo pack. Si illumina. Dai, carta blu. Niente. Non ci dà nulla. ATT. In forma. Un altro if. Non sa quanti if ci ha dato però. Suani. Non sa quanti. Grazie a tutti.